PEGI 16 Questo luogo mi è familiare. Chi sei tu? Che cosa hai fatto? Chi sei tu? È la ragione per cui la Fortezza è così ambita da tutti i regni vicini. Malik è stato mandato qui per le sue grandi doti militari, così da scoraggiare gli attacchi. Ma persino la potenza di Malik non è servita proprio a nulla. Chi sei tu? Amelie! Oh, my God. Grazie a tutti.